I motivi della tua scelta Sicuramente è una squadra che non molla mai, una buonissima squadra Ho visto un po' di partite, è una squadra che lotta fino alla fine Ultimamente ha recuperato una partita che sembrava ormai chiusa nel primo tempo Quindi sono una squadra molto cattiva che non molla mai Arrivi in una realtà che negli ultimi anni ha avuto un'escalation importante Che idea ti sei fatto anche delle strutture, un po' del primo impatto che hai avuto con la città di Chiaveri? Sicuramente è una città bellissima sul mare, sono molto contento di essere qua e non vedo l'ora di cominciare Ultima cosa, personalmente che periodo sarà questo per te e che obiettivi ti poni? Personalmente sarà una parte importante, un finale di stagione deve essere importante sia per me che per tutta la squadra Grazie! Grazie! Grazie!